Con Paola Guidi entriamo all'interno di questo Club Agora Bologna 3, intanto per capire un po' che cos'è. Il Club Agora è un club che nasce in Francia nel 1987 e poi si è esteso a livello di altri paesi, è presente in molti stati nel mondo e in Italia è nato nel 2010. Il Club Agora Bologna 3 è nato nel 2010 e svolge come attività di service, quindi raccolta fondi che vengono poi devoluti per vari progetti di sostegno. Prevalentemente sono dedicati questi nostri progetti alle donne e ai bambini. Perché alle donne? Perché il Club Agora è un club femminile, nasce come derivazione dei club anglosassoni che sono o maschili o femminili, quindi noi ovviamente siamo un club femminile e quindi poi chiaramente anche per definizione sostegno ai bambini. Cerchiamo di sostenere dei service locali ma anche a livello internazionale vengono portati avanti progetti molto importanti. Questa sera avete scelto di dedicare questa serata, quindi la raccolta fondi, ad una realtà che è il Paddock. Esatto, il Paddock è una realtà locale e molto importante perché svolge un'attività che è estremamente affine ai nostri scopi, perché svolge attività di sostegno ai ragazzi e ai bambini che hanno disagi alimentari, mentali, fisici, familiari e quindi assolutamente in sintonia con le nostre finalità. Questa serata si doveva svolgere già nel 2020, anzi nel 2019 prima che poi arrivasse quello che sappiamo e finalmente siamo riusciti a realizzarlo, quindi siamo molto contenti di questo. Ci racconta la realtà di questa associazione, le attività che fate e il ruolo che svolgete a livello sociale in questa città? Certo, è dal 1988 che un gruppo di volontari si sono associati appunto nell'associazione di volontariato il Paddock e operiamo ormai da 34 anni negli interventi assistiti con il cavallo a favore di ragazzi disabili, tossicodipendenti in fase di recupero, persone della bassa soglia, quindi dell'estrema povertà, minori in disagio sociale e anche da qualche anno, da quando il nostro piccolo maneggio si trova in centro a Bologna per tanti ragazzini che hanno voglia di conoscere il settore dell'equitazione. Questa serata è una serata dedicata a voi, una raccolta fondi che ovviamente sono utili per fare questa attività? Certo, noi viviamo anche di queste cose, intanto è utilissimo per far conoscere proprio il nostro intervento a più persone possibili e ormai la nostra attività è molto conosciuta, dal 2015 è stata riconosciuta dal Ministero della Salute come attività terapeutica e rieducativa e quindi perché no, anche questa sera sarà una bellissima occasione.